Con Enrico Bettini, amministratore unico di Tennis Palladio 98, sotto il segno dell'elefante questo torneo internazionale a Vicenza, in questa stagione l'unico maschile di questo livello in Veneto, insomma quasi 50 partecipanti ma di alto livello, lei diceva se non vado errato che almeno una decina sono tra i primi 50 a livello internazionale. Sì, confermo che questa manifestazione ha già visto nel tempo la presenza di giocatori che poi sono arrivati ai vertici della classifica mondiale. Degli attuali primi 50 del mondo ATP sono presenti 9 giocatori, a cominciare da Marin Cilice che è stato addirittura tra il mondo e che è venuto qua a Vicenza a una delle prime edizioni. Attualmente ce ne sono addirittura 25 dei primi 100 del mondo, per cui il mio invito a tutti gli appassionati di Tennis di venire a vedere dal 27 maggio al 2 giugno, presso l'impianto comunale di Contrada della Piada, a vedere degli incontri bellissimi e un livello di gioco di assoluto valore. Certo, è proprio questo per l'appassionato di tennis, qui ci sarà un livello molto alto, di pochissimo inferiore agli internazionali di Roma, come sottolineava il vicepresidente nazionale della FIP. Sì, Gianni Mila giustamente diceva che la velocità di palla che si vede qui a Vicenza è assolutamente la stessa che si vede a Roma agli internazionali di tennis. È vero, posso confermarlo. Ecco, lo facciamo anche per i giovani. Io invito tutti i ragazzi delle scuole tennis di venire a vedere dal vivo, magari anche di collaborare come raccata a palle, perché il livello di gioco sarà veramente alto.